Un solo nuovo caso di Covid-19 accertato oggi in Abruzzo. Ignota però la percentuale che questo rappresenta rispetto ai test effettuati. Da ieri infatti la Regione ha cambiato la comunicazione tramite la quale in questi mesi ha informato gli abruzzesi sull'andamento del virus, non rendendo più noto il numero di tamponi processati ogni giorno. Rispetto a ieri vi sono 9 persone in meno ricoverate in terapia non intensiva. In tutto attualmente sono 32, mentre rimangono ancora 2 persone in terapia intensiva. Altre 337 persone positive, più 2 rispetto a ieri, sono in questo momento in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Ad oggi i positivi al Covid in Abruzzo, di cui si ha conoscenza, sono 371, 7 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati in tutto 3.284 casi nella nostra Regione. Di questi 224 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 816 in provincia di Chieti, 1.585 in quella di Pescara, 631 nel Terramano e 25 provengono da fuori Regione, mentre per tre casi non è indicata la provenienza. Questi i numeri del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato Regionale alla Sanità. Intanto Hans Klug, direttore della Sezione Europea dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che la settimana scorsa, per la prima volta dopo mesi, vi è stato un aumento dei casi settimanali nel continente. Klug ha affermato che in 11 paesi dell'Unione, senza però specificare quali, è stata registrata un'accelerazione della trasmissione del virus, che ha portato a un'impennata molto significativa, che se non controllata, ha concluso il direttore europeo dell'OMS, potrebbe portare a una seconda ondata in autunno, che spingerà ancora una volta i sistemi sanitari europei sull'orlo del precipizio.